Per un latitante, il tempo è un concetto relativo. Il killer, lo stragista, l'ammazza sbirri, Boris Giuliano, Antonino Burrafato, il giornalista Mario Francese. Morti che gli consentono di prendere posto in commissione, la sede dove avvengono le decisioni. Mandante delle stragi di Firenze, Roma, Milano, Capaci. Nel 1993 eredita il potere militare di suo cognato, Totò Riina. Armi e migliaia di uomini, cento omicidi all'attivo. Nel 1993 Bagarella non solo siede in commissione, è diventato la commissione. L'arriamo mogli da subito.